L'alcol è una sostanza estremamente sottovalutata per quel che riguarda i danni che può causare nel nostro organismo e soprattutto è sottovalutata dalle giovani generazioni. In realtà non è così, l'utilizzo di alcol aumenta in maniera esponenziale il numero di morti improvvise, quindi di morti precoci, il numero di infortuni, anche quelli sul lavoro, così come il numero dei ricoveri. Tutte le forme di cancro, nessuna esclusa, aumentano nei soggetti che abusano o utilizzano, assumono l'alcol in maniera abbastanza frequente. E pensate che i danni che produce l'alcol, questo ci dice l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, non sempre sono in qualche modo diminuibili nel momento in cui si interrompe l'assunzione dello stesso. Quindi significa che l'alcol è talmente forte nella sua tossicità che anche interrompendolo molte patologie comunque hanno un'incidenza estremamente più importante nella vita del soggetto appunto che lo utilizza. C'è una correlazione talmente forte invece tra l'alcol e il cancro dell'esofago, che tra l'altro è uno dei peggiori, e il cancro in generale della bocca, che pensate in questo caso invece l'interruzione diminuisce notevolmente la loro incidenza. Quindi mentre per le altre l'incidenza rimane standard, quelli della bocca e quelli dell'esofago sono così strettamente correlate all'utilizzo dell'alcol che interrompendolo possiamo fare del bene al nostro organismo. Pensate che dopo quattro anni che finalmente non si assume più alcol, abbiamo una riduzione di quasi il 25% dell'incidenza nella popolazione che appunto assume questo alimento, definiamolo così, dell'incidenza del cancro dell'esofago. Quindi chi assume alcol deve assolutamente interrompere questo utilizzo. Ma l'alcol fa tantissimi alti danni, aggrava tutte le patologie, dal dabiete, l'artrosi, tutte le epatopatie, ma anche le patologie polmonari sono fortemente condizionate dall'assunzione di alcol. E tra l'altro l'alcol è un fortissimo potenziatore di tutti gli altri cosiddetti vizi o abitudini voluttuari, prima tra tutte, chiaramente il fumo. Però dobbiamo sfatare anche un concetto. Un bicchiere di vino non fa assolutamente bene. L'alcol fa male tutto, sono tutte balle che vengono raccontate per convincere ad utilizzare. Anche una sola goccia di alcol, che sia vino, che sia un liquore, che sia qualsiasi cosa, sia alcolica, fa male. E il vino è alcol a tutti gli effetti. Quindi allontaniamoci da queste abitudini se vogliamo vivere bene e vogliamo vivere a lungo. Alla prossima!